Come, ma soprattutto, perché stabilizzare la caviglia grazie ad esercizi eseguiti con una macchina cavi come questa? Ciao, sono Bebi Beniamino, fisioterapista e preparatore atletico. In altri video abbiamo già parlato della caviglia, di alcuni infortuni relativi a questa articolazione e di come provenirli. Se vuoi approfondire ti lascio tutti i link qui sotto in descrizione, ma oggi focalizziamo l'attenzione su come utilizzare una macchina con i cavi per rendere gli esercizi ancora più efficaci. Queste proposte sono ottime sia in caso di riabilitazione in possumi di istruzione caviglia, sia per prevenire eventuali infortuni, sia per un'ottima preparazione atletica. Nel corso del video vedremo come eseguire l'esercizio, perché è importante aggiungere la spinta con i cavi e vedremo anche eventuali varianti per rendere l'esercizio più difficile e funzionale alla pratica sportiva. Come sappiamo, infatti, gli infortuni nella caviglia vengono spesso causati da traumi laterali, concedimento del piede della caviglia verso l'interno o verso l'esterno. Ecco perché eseguire degli esercizi aggiungendo una spinta con dei cavi, laterale o mediale, ci permetterà di allenare i muscoli che vanno a stabilizzare l'articolazione. Prima di vedere l'esercizio ti rubo ancora pochi secondi per ricordarti di scrivere nei commenti eventuali domande o dubbi. Inoltre, iscriviti al canale perché ogni settimana parleremo del mondo della fisioterapia, dello sport e della preparazione atletica. Tieni anche presente che gli esercizi che vedremo eseguiti con una macchina del genere sono molto più precisi, ma eventualmente per farli a casa puoi anche affidarti all'utilizzo di un elastico. E a tal proposito, sempre in descrizione, ti metto il link per un set di elastici veramente utile per queste proposte e per tanti altri esercizi. Per l'esecuzione dell'esercizio partiamo dalle basi. Cavo all'altezza del ginocchio e lo agganciamo con una fettuccia poco sotto la rotula. Agganciarlo vicino al ginocchio piuttosto che alla caviglia ci permetterà di sfruttare maggiormente l'effetto leva e quindi di allenare la muscolatura laterale. Dopo essere agganciato al cavo, alza la gamba contro laterale, ginocchio d'appoggio in estensione e mantieni l'equilibrio per circa 40 secondi o un minuto. Il tuo compito è quello di sentire quasi tutta la pianta del piede che lavora per terra, mantenendo l'equilibrio e sempre il ginocchio in estensione. Tenere il ginocchio dritto ti permette infatti di focalizzare maggiormente la tensione sui muscoli della caviglia. In questo caso la spinta verso l'esterno ci permetterà di allenare i peronei. Ma lo stesso identico esercizio lo possiamo eseguire anche con una spinta verso l'interno, così da allenare maggiormente il tibiale posteriore. Per aumentare la difficoltà possiamo aggiungere ulteriori movimenti durante la fase statica, cioè quando richiediamo al soggetto l'equilibrio con il ginocchio esteso, richiedere movimento o dell'arto inferiore contro laterale o degli arti superiori, come per esempio il raggiungimento di diversi punti con l'arto inferiore oppure con l'arto superiore, palleggiare con una palla o eseguire dei lanci tra l'operatore e il paziente. Per renderlo ancora più dinamico possiamo richiedere una corsa sul posto e un arresto, mantenendo sempre il ginocchio in estensione e contrastando la spinta del cavo. Oppure possiamo anche utilizzare delle tavolette propriocettive. Per enfatizzare al massimo questo esercizio, una tavoletta basculante destra-sinistra renderà l'esercizio più difficile ed efficace. E anche in questo caso posso richiedere al mio soggetto movimenti con gli arti superiori o con gli arti inferiori. E infine, importantissimi per l'attività sportiva, sono gli atterraggi, che in questo caso eseguiamo atterrando su una gamba sola e mantenendo la spinta del cavo. Eventualmente possiamo anche eseguire un esercizio a carattere pliometrico, richiedendo al paziente un ulteriore salto subito dopo l'atterraggio. Mi raccomando di iniziare con dei carichi molto bassi per far prendere confidenza al paziente. Basta veramente un minimo per destabilizzare l'articolazione e quindi rendere l'esercizio efficace. Eventualmente come progressione potresti anche considerare di aumentare il carico. Io in realtà ti consiglio di cambiare la proposta di esercizio, quindi renderla più dinamica, utilizzare delle tavolette o eseguire degli atterraggi. Se si riduce da una distorsione di caviglia, prima esegui tutto il programma riabilitativo, infine aggiungi anche questi esercizi. Invece per un programma di preparazione atletica, prova già queste proposte ed eventualmente nei commenti scrivici la tua opinione. Infine ti ricordo di iscriverti al canale perché ogni settimana parleremo del mondo dello sport, della fisioterapia e della preparazione atletica. Buon allenamento e ci vediamo al prossimo video!